Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo video chiacchiericcio, come potete vedere appunto dalla telecamera eccetera eccetera. Allora, non sono proprio nella migliore delle forme estetiche di Daniele Danzu, voi direte ma perché sta facendo un video chiacchiericcio? Perché raga vi devo raccontare una cosa che non è stata proprio piacevolissima e non mi sono preparato un discorso. Allora raga, vi avevo detto che a settembre sarebbero tornati dei contenuti, in realtà io sto parlando oggi che è il 2 settembre, in realtà quindi non so quando vedrete questo video, però vado subito al nocciolo della situazione. Io ieri sono uscito dall'ospedale, sono stato una settimana in ospedale, nulla di grave raga, però ho preso una forma di gastroenterite aggressiva e dire poco e non sono stato per niente bene, ho ancora come vedete i gerotti delle flebo eccetera eccetera. E quindi ovviamente quando è successo questa cosa, nella settimana finestra che io volevo utilizzare per registrare tutti i contenuti di settembre, dato che comunque ho messo il canale in pausa ad agosto, ma vi avevo detto a settembre vi faccio comunque trovare qualche contenuto così che poi la pausa dura di meno, andiamo in pausa solo ottobre e novembre. E in realtà raga non sarà così, perché questa settimana io l'ho passata in ospedale, ovviamente non avevo modo di registrare per quanto ne avessi voglia, in realtà è nulla. Io mi sto riprendendo piano piano, tra l'altro ieri sarei dovuto partire, voi sapete no che avevo due impegni lavorativi molto importanti, come vi avevo detto nello scorso video. Io purtroppo questa gastroenterite è iniziata nel primo periodo lavorativo, quindi mi ha un po' non rovinato, però non mi ha fatto godere proprio quell'esperienza al 100% e al ridosso dell'altra partenza ovviamente non sono potuto partire, ma lo farò in questi giorni, ho ritardato la partenza, per fortuna quando le motivazioni sono di salute, sono tutti comunque pienamente disponibili, hanno capito ovviamente dove dovevo andare e cosa mi è successo e quindi sono in partenza, comunque aspetterò giusto un paio di giorni per riprendermi un pochino fisicamente perché ho perso anche un pochino di chili, io già sono magro quindi ho perso ulteriori chili e questa cosa ovviamente mi ha destabilizzato a livello fisico, però io sto bene, sta passando tutto, per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, si presupponeva fosse qualcosa di un po' più grave e invece per fortuna non lo è, quindi io sto bene raga, non vi preoccupate da questo punto di vista, però ecco volevo, ci tenevo a condividere con voi questa cosa perché magari dite eh ma Dani ci aveva detto che a settembre sarebbero tornati dei contenuti e abbiamo visto solo un paio di video, è vero, però non l'ho fatto perché non voglio tornare a registrare, anzi io non vedo l'ora che, sì di vivermi questa esperienza, ovviamente lavorativa, però non vedo l'ora che arrivi fine novembre per ricominciare a bomba con il canale, tra l'altro a quanto ho capito dovrebbe uscire anche in Zoe a fine novembre, raga io sono fuori dal mondo, sono stato fuori dal mondo, non ho capito molto bene tutte le news e le novità del mondo videoludico, quindi mi dovrò un attimo aggiornare e qui non l'ho potuto neanche provare la demo, cioè raga vi rendete conto, l'avrei voluta tantissimo provare e portarla anche sul canale, poteva essere una, diciamo un modo per fare contenuti diversi, però raga, ahimè, forze maggiori hanno deciso in maniera diversa, hanno deciso al mio posto, e nulla raga, quindi questo è quanto, settembre non credo usciranno altri video, non credo di riuscire a registrare qualcosa, perché comunque quando poi parlo per tanto tempo inizio comunque a sentir le forze venire un pochino meno, quindi non posso stare di certo a registrare per 20-30 minuti come al mio solito, so che voi capirete, che riempirete questo video di commenti super di supporto e di, come dire, di forza, di affetto, eccetera, lo so già, perché lo scorso video raga mi avete non stupito, perché lo immaginavo, però ero veramente contento di ricevere tutti quei messaggi, e nulla, spero che la vostra estate sia, diciamo, finita in maniera sicuramente più bella della mia, spero che settembre abbiate anche voi dei nuovi propositi, state per partire con delle nuove avventure, delle nuove situazioni che vi porteranno magari a fare nuove esperienze, ad avere nuove skill, io, raga, settembre prendetelo veramente come un gennaio, nel senso come, ok, inizio di un nuovo anno scolastico, inizio del nuovo anno lavorativo, quindi recuperate tutta l'energia che l'estate vi ha dato, che il sole vi ha dato, e usatela al massimo, perché se iniziate bene l'anno, se iniziate bene settembre, vedrete che poi, diciamo, è tutto in discesa. Io comunque sono super entusiasta, raga, di partire per questa esperienza lavorativa, non ho perso l'entusiasmo, ho solo perso un po' di forza, però quella pian piano ritorna e farò in modo di ritornare a essere il Daniele, diciamo, un po' iperattivo di sempre. E nulla, raga, quindi io spero state bene, spero che la vostra estate sia stata molto bella, spero che il vostro settembre sia un settembre ancora più bello. E nulla, raga, io ci sto prendendo un po' l'abitudine a fare questi video chiacchiericci e non mi dispiace. E nulla, raga, io quindi vi mando un bacio, spero vivamente di portare nuovi contenuti quanto prima, appena riuscirò a registrare qualcosa, giuro, anche video così un po' che non c'entrano niente magari con i gameplay, di The Sims, magari qualche video di costruzione, se riesco a registrare qualcosa off camera, magari vi butto uno speed build, vediamo se ci riesco, devo ancora capire e organizzarmi. E niente, raga, vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e io vado a stendermi sul divano e a bere tanta acqua. E nulla, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!